L'affiancamento delle due letture di oggi, dei due racconti, il primo tratto dall'Esodo che parla di questo popolo di Israele che si trova errante nel deserto e che chiaramente si lamenta, si lamenta con Mosè, si lamenta con Dio perché si trovano senza avere alcun sostentamento per cui dicevano era meglio stare in Egitto, morire lì, perché? Perché ci avete portati qui nel deserto a peli e di fame? E l'altro racconto che è la parabola, la famosa parabola del buon seminatore che Gesù racconta ai suoi. Ecco questo affiancamento è straordinario perché vediamo come sia nell'uno che nell'altro racconto c'è qualcosa che scende potremmo dire dall'alto, la manna e le quaglie dal cielo nel racconto dell'Esodo, mentre questo seme che cade e cade in diversi terreni. E quindi vediamo che c'è un elemento fondamentale che viene evidenziato, cioè che dall'alto scende sempre qualcosa, o forse è meglio dire il cielo è sempre aperto verso la terra, non c'è un momento in cui dall'alto non scende la grazia di Dio, è sempre aperto, mentre dal basso notiamo un'altra costante, nel primo racconto la mormorazione, nel secondo racconto vediamo come fra i quattro terreni o quattro situazioni è solo un terreno da il frutto, mentre gli altri tre non danno, ma il seme cade in ogni caso, la grazia cade in ogni caso. Quindi vediamo che c'è questo contrasto tra la fecondità dall'alto e la sterilità dal basso. Dio è sempre fecondo, Dio è sempre attento, Dio manda la sua grazia, solo dal basso ce ne uomini, non ce ne accorgiamo, non ne siamo consapevoli, siamo chiusi in noi, abbiamo altri parametri, abbiamo altri schemi, e che allora chiediamo al Signore la luce perché uno, possiamo veramente credere che il cielo è aperto sempre verso di noi, due, perché quando ci viene dato non lo facciamo diventare un'occasione perduta, ma diventiamo fecondi, portando molto frutto. Buon amissio.